Vediamo? Vorrei dire qualche cosa... Ciao! Come stai? Muovino, muovino un po' per se me... Anche l'altra mano... Il tuo modo è stretto, non lo rompo... Ci vuole proprio la mano di una bambina... Non c'è più... E ritornato... Maggio al canto del tutto... Sì... 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 Aiuto, aiuto, aiuto... Vendiamo il connecorno... Aiuto, aiuto, aiuto... Sì... Sì... Qui sono ancora il McTwin... Il classico di... L'autore americano... Vi saluto... Sì... Vi saluto... Gli fideli... Si sapete... Schimmi la propria... ...Sì... Ci sono molte... Bli varie... E io non ceci... Non... No... Monizia... Loro... Infine... Non... E... Sì... Mi piacere... E? No... Poi... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 www.kairolaska.it www.kairolaska.it Lui rifugiava la formazza due giorni al lago di Poiala e la moglie, il 9 maggio, scorso nel mare, sotto ammagretto l'igua. Lui rifugia la formazza due giorni al lago. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.